È ufficiale, a Vigevano partirà il piano di manutenzione delle strade. I vigevanesi si lamentano da parecchio tempo per la condizione di molte strade. In alcune zone sono presenti solchi profondi, mentre in altre l'asfalto non è uniforme. Una situazione pericolosa, insomma, per gli automobilisti che girano per la città. Interverremo perché i cittadini hanno bisogno di una condizione di sicurezza urgente, si legge nella delibera di giunta, che conferma l'intervento del Comune sulle strade e che spiega il programma che si seguirà. Prima di tutto bisognerà trovare una ditta appaltatrice, che sarà l'azienda vincitrice durante la gara d'appalto. Per aggiudicarsi i lavori bisognerà presentare l'offerta più vantaggiosa. La giunta mette a disposizione un milione e mezzo di euro per iniziare i lavori stradali, da sommare agli oltre 300 mila che assegnerà nei due anni successivi. Non solo, sono previsti fino al 2028 anche più di 4 milioni di euro, destinati allo sgombero neve e al versamento antigelo. Questo servizio riguarderà strade, piazze, parcheggi e piste ciclabili, ma non i marciapiedi che sono di competenza dei privati. Le aree di circolazione interessate saranno la circonvallazione che conduce alla frazione Piccolini, la rotonda della Brughiera, via Castellana, strada Regina, via Settembrini, via Le Sforza, via Le Manzoni, via Cappuccini, via Vochieri, via Le Petrarca, Corso Pavia, via Olivelli, strada Camina, via Fossana, via Oberdan, via Villa e via Santa Rita. I lavori di asfaltatura, se tutto andrà secondo i tempi previsti, partiranno a settembre con l'arrivo dell'autunno.